cari amici che come me vi interessate di architettura contemporanea un saluto da nat russo oggi vorrei parlarvi di un architetto britannico di fama internazionale thomas alexander etterwich classe 1970 apre nello studio a londra l'etterwich studio dopo aver studiato al manchester politecnica e successivamente essersi perfezionato nel royal college of art di londra dove ha conseguito un master in design interessato alla interdisciplinarietà fra le diverse arti in particolare architettura ed ingegneria nel 1994 inizia la sua parabola di progettista che subito si caratterizza per progetti unici e innovativi rivoluzionari sia come prodotti di design sia come nuovi spazi pubblici architettonici oltre ai progetti architettonici ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo lavoro è stato nominato membro dell'ordine dell'impero metà britannico e nel 2013 è stato insegnato dell'ordine dei compagni d'onore per i suoi contributi all'arte e il design etterwich è diventato un punto di riferimento nel mondo del design dell'architettura il suo studio continua a realizzare progetti affascinanti in tutto il mondo una capacità unica di inserire insieme ingegneria funzionalità e creatività dando alla luce lavori ammirati apprezzati sia dal pubblico che della comunità professionale ma vediamo alcuni suoi capolavori nel 2002 questa straordinaria opera uno dei primi progetti di successo si chiama blaigessen intervento di scultura fluida sopra la piscina la piscina del complesso medico di londra e nel 2010 a shanghai ecco il la sid cathedral il padiglione del united kingdom del gran brettagna una struttura spettacolare che cattura l'attenzione di tutto il mondo caratterizzata da migliaia di asse di fibra ottica che si alzano in aria creando una sorta di bosco luccicante è diventato il simbolo dell'expo di shambai e ha vinto numerosi premi come design ecco che eterwick riusci a progettare un nuovo autobus iconico per il traffico di londra il new bus for london un design caratterizzata da una grande vetrata anteriore gradini ripiegabili e una struttura impatto ambientale ridotto anche questo diventato presto una icona per il pubblico del trasporto londinese ma ecco negli stati uniti che nasce quello che è probabilmente il suo capolavoro il west edson yard di new york una struttura a spirale pubblica che è diventata un'attrazione principale del quartiere di edson yard a new york composto da una serie di scalinate e piattaforme interconnesse che offrono ai visitatori una vista panoramica sulla città a città del capo in sud africa ecco realizzato il zeite mocaa è la riconversione di un vecchio silo spercere ali trasformato in museo d'arte contemporanea la struttura presenta un esterno scolpito e un interno spettacolare offrendo un unico spazio espositivo per l'esposizione artistica veramente straordinario come straordinario e innovativo a londra nel regno unito è il the hive cave garden di londra una installazione temporanea creata per celebrare l'importanza delle api nell'ecosistema come un gigantesco alveare che è circondato da ali che gli volano attorno questo l'impressione dell'edificio composto da una serie di fussi d'acciaio che emettono suoni in risposta all'attività delle api nelle vicinanze un altro edificio iconico sorge a new york sullo hudson river pier 55 è stato coinvolto nella progettazione di un nuovo parco sul sun river chiamato appunto pier 55 è noto anche come l'itlin isola l'isolotto un parco caratterizzato da un'architettura organica con colline artificiali e un anfiteatro per spettacoli all'aperto ed ecco che nella sempre a londra sorge il course drop yard una ristrutturazione di un grande supermercato che diventa come un grande uccello dalle ali spiegate a shanghai ecco sorgere i tree development una serie di edifici contraddistinti da facciate ricoperte di verde di grandi alberi verdi e poi un bellissimo intervento nella distilleria bomba e shafir nel cuore dell'anfshire a laverstone mille un qualche cosa di evocativo di getti di birra che fuoriescono dalle pareti un altro edificio straordinario ed iconico a london ecco il paternoster square un edificio che al tempo stesso è una scultura come un angelo dalle grandi ale spalancate d'acciaio e poi a tokyo ecco nascere il quartiere binato in pratica un ricco pergorato di piante giganti che si inerpica lungo la facciata ricurva di un grande edificio di vetro e cemento e a singapore ecco nascere gli university building complete una serie di tronchi di cono rovesciati segmentati ulteriormente che si chiudono con dei grandi boschetti sopra la copertura sempre a shanghai un altro edificio straordinariamente innovativo è il centro di finanza band come un grande organo le cui canne ricoprono tutta quanta la facciata e a dancing ecco sorgere il pacific place un intervento di completamento della piazza pacific mentre a londra un altro momento di grandissimo interesse è a paddington il bacino di paddington in cui nasce una straordinaria struttura che sembra un ottagono avvolto su te stesso che poi però si srotola come una grande passerella che attraversa l'acqua e viene chiamato appunto per questo the rolling bridge bene di questo geniale architetto per adesso è tutto un saluto da nat russo a presto